Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proporremo una torta che vi manderà in visibilio, la torta fresca all'ananas. È davvero estiva, facile e veloce da preparare. È una torta fresca e delicata, perfetta per l'estate e adatta agli amanti della frutta esotica. Preparate il grembiule perché sarà una ricetta molto divertente. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 4 uova grandi, 120 g di zucchero, un pizzico di sale e la buccia di un limone biologico. Montiamo con le fruste elettriche per 10 minuti. Dovremo raggiungere questa consistenza. Mettiamo 30 ml di olio di semi in una ciotola e aggiungiamo 3 cucchiai di impasto. Mescoliamo bene, poi aggiungiamo il composto all'impasto. Aggiungiamo poco alla volta 125 g di farina 00 e mescoliamo delicatamente con una frusta. prendiamo una teglia di 18 centimetri di diametro ricoperta di carta forno e ci versiamo il composto all'interno. Sbattiamo per eliminare le bolle d'aria e facciamo dei cerchi concentrici con un bastoncino in modo da evitare che si formi una bolla al centro. Cuociamo a forno ventilato 160 gradi per 20-25 minuti. Passati 20 minuti fare la prova stecchino. Sforniamo e lo capovolgiamo. Togliamo via la teglia e la carta da forno. Poi lasciamo raffreddare completamente. Ora ci occupiamo della crema. Avremo bisogno di un ananas. Per stabilire se è maturo bisogna tirare la foglia centrale e se si stacca facilmente il frutto è pronto. Puliamo completamente l'ananas anche dai pori marroni. Tagliamo due fette per lato dal nostro ananas spesso in un centimetro e mezzo e togliamo la parte centrale d'esse. Poi le andiamo a tagliare a cubetti. Trasferiamo i pezzi in un pentolino e frulliamo con un bimipimer. Aggiungiamo 50 g di zucchero semolato e portiamo sul fuoco per circa un minuto fin quando si scioglierà lo zucchero. Poi aggiungiamo i semi di mezza bacca di vaniglia e 60 g di amido di mais. Diamo una bella mescolata e versiamo 500 ml di latte. Mescoliamo con un frustino finché sarà tutto amalgamato e cuociamo per circa 3 minuti da quando inizia l'ebollizione. Trasferiamo in un piatto e copriamo con pellicola a contatto. Mettiamo in frigo fino al bisogno. Riprendiamo l'ananas avanzato e ricaviamo 10 fette spesse 2-3 mm che adagiamo su della carta assorbente. Ciò che avanza del frutto lo andiamo a tagliare a pezzetti e mettiamo da parte fino al bisogno. Copriamo le fette con un'altra carta per assorbire più acqua possibile e mettiamo in frigo fino al bisogno. Per completare la crema dobbiamo riprendere dal frigo la crema all'ananas e la mettiamo in una ciotola. Aiutandoci con una marisa la lavoriamo per 15 secondi. Iniziamo ad aggiungere poco alla volta 300 g di panna montata già zuccherata. E voilà! Siamo arrivati all'assemblaggio quindi spalmiamo una noce di crema sul piatto da portata. Adagiamo sopra il primo disco di pan di spagna quale abbiamo precedentemente tagliato in tre parti. Poi lo bagniamo con un infuso all'ananas. Aggiungiamo un terzo della crema e la livelliamo per bene. Mettiamo metà dell'ananas a pezzetti e adagiamo sopra il disco centrale di pan di spagna. Ora ripetiamo lo stesso procedimento. Copriamo interamente la torta di crema avendo cura di lasciare da parte 5-6 cucchiai. Trasferiamo la torta in frigo fino a domani. Il giorno seguente prendiamo un tappetino perforato o una teglia con carta forno e ci posizioniamo sopra le fette di ananas. Cuociamo in forno preriscaldato ventilato 80 gradi per un'ora. Sforniamo e giriamo tutte le fette di ananas e anche la teglia. Cuociamo alla stessa temperatura per un'altra ora. Appena sfornate posizioniamo le fette in una teglia per muffin cercando di donare la forma di un fiore. Questa operazione va fatta molto velocemente. Lasciamo raffreddare completamente nelle formine. Riprendiamo la torta dal frigo e la ricopriamo nuovamente con la crema avanzata. Con 100 grammi di panna montata facciamo 6 ciuffi al centro del dolce per donare altezza. Completiamo la torta posizionando i fiori d'ananas a formare un bouquet. Ammirate che meravigliosa torta abbiamo creato. Bene amici ora siamo arrivati al mio momento preferito sia l'assaggio e adesso gustiamo questa meravigliosa torta. Guardate che bellissima stratificazione! è una torta molto delicata e l'ananas dona quella freschezza giusta che rende questa torta estiva. La crema è vellutata e piacevole al palato. Inoltre il pan di spagna è sofficissimo. Infine queste chips all'ananas donano quel tocco di crocantezza che va a completare questa meraviglia. È strepitosa! Assolutamente da provare! Ok amici il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace! Non costa nulla ma a noi può fare la differenza! Ci vediamo nel prossimo video!